Ben trovati da Trip TV, diamo le notizie di oggi in collaborazione con la redazione di 0766 News, l'ultima notizia che hanno ottenuto il via libera per quanto riguarda la politica e le elezioni, sia tantò che ben detto il via libera dal Comitato di Garanzia di 5 Stelle per poter essere parte attiva in queste elezioni, quindi hanno una deroga alla norma che lo vietava per le partecipazioni alle elezioni di chi in precedenza si era presentato a competizione elettorale. Adesso invece è stato chiarito che chi ha avuto incarichi tipo assessore, sindaco e altre cose del genere. Quindi sarà un problema in più, forse per Daniela Lucendoni o per chi deve presentare le liste, ricordiamo che i grillini dovrebbero teoricamente poter presentare fino a tre liste se non troveranno la quadra al loro interno, così come non si sa chi sarà il candidato Dem, del Partito Democratico, perché non si può fare le primarie per mancanza di tempo, ci sarà un televoto e quindi gli interessati sono Marco Piendibene, Carlo Tarantino e Manuel Magliani. Questi sono i nomi che verranno presentati agli elettori. Adesso c'è una certa avvicinamento tra Tarantino e Onda Popolare, quindi Magliani, per capire anche Magliani e della corrente che fa capo a Mirko Mecozzi. Quindi poi ci sono altre possibilità. Ovviamente Piendibene è il capogruppo in Consiglio Comunale, consigliere anziano, insomma, quindi ha tutta una carriera per poter avere delle valide chance per essere lui candidato a sindaco del Partito Democratico e Tarantino invece è il nome nuovo, quello che viene dalla vita civile, anche se anche lui in passato e in gioventù fece parte appunto di direttivi e di rappresentanza politica nel quello che era allora il Partito Comunista. Per quanto riguarda la centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia continuano a prendere tempo, quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va bene. Le liste civiche, Grasso ha incassato il sostegno di Giampiero De Angelis e di altre liste che stanno, di altre persone si stanno accreditando. Petrelli continua la sua lista personale e quindi questa è la situazione. Poi c'è ovviamente Casa Founder che già ha decretato il suo candidato Mele. Per quanto riguarda i lavori normali del Consiglio Comunale, tre delibere votate all'Unione di Milità, la presenza degli studenti, approvato il regolamento per il Consiglio dei Ragazzi, la nuova Carta dei diritti della bambina e l'istituzione del registro DAT. Poi ieri si è commemorato anche il giorno della memoria, ragazzi che sono infatti rimasti per assistere alla prima seduta del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda quest'ultimo c'è da segnalare che quando si arrivava a stringere sulla mozione C, cioè parlare di usi civici e di altre cose, il Consiglio si è chiuso proprio perché non c'era più nessuno e quindi i consiglieri comunali e pubblico se ne erano già andati. Quindi questa è la situazione della politica civile vecchia che riguarda anche quello che è l'attosfera nei dipendenti comunali perché in settimana appena chiusa ci sono state botte da orbi tra due colleghi in una sede di staccata del Comune in orario di lavoro, ma i due se ne sono dati di santa ragione, tutti e due sono dovuti ricorrere al pronto soccorso, uno anche con più di 20 giorni di prognosi, questo fatto infatti farà scattare l'indagine d'ufficio da parte delle autorità competenti, oltre ovviamente che ci sarà anche un'indagine disciplinare per l'accaduto ovviamente molto deprecabile. Quindi queste sono le situazioni. Ancora i lavoratori SGM senza stipendio lo denuncia una lettera di un operaio a gennaio sta per finire e i lavoratori SGM, cioè chi lavora nelle pulizie, nel porteriato delle sede comunali, non hanno percepito la mensilità di dicembre 2018. I problemi, come denuncia questa lettera, sono ormai tutti i mesi, da circa due anni. Quindi dopo tutto questo tempo posso affermare la responsabilità solo e esclusivamente dell'azienda SGM, ha spiegato l'unica cosa che ha potuto fare l'entrappantante, ossia il Comune, è quello di avviare la procedura dopo tante lettere di sollecio per il pagamento diretto per il quale non ci vorrà del tempo e quindi non si sa come andrà a finire. Quindi questa è la situazione. Dall'altra parte c'è da dire che molti vorrebbero far riaprire il box turistico dedicato appunto ai turisti a Viale e quindi questo lo dice soprattutto Gianmarco Sestili delegato al turismo del circolo Borsellino di Fratelli d'Italia. E poi in città, io dico finalmente, c'è stato anche un giro di vite della polizia contro i centri scommessi, addirittura ho trovato uno completamente abusivo, un altro con minori alla presenza di minori all'interno e io direi fatevi un po' un'interrogazione, vedete che l'unica cosa che funziona a Civite Vecchia sono i centri scommessi, per quanti ne sono aperti e per quanti ne stanno aprendo. Quindi questo fa capire il livello diciamo abbastanza basso della nostra città dove si spera, una volta si sperava nel bietto della lotteria, la lotteria è finita, poi c'è il gratto e il vinci, adesso i più evoluti vanno direttamente nelle sale scommesse dove si scommette di tutto, ma l'unica cosa c'è perché si perdono soldi. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il convegno, domani ci sarà la celebrazione dei patrioti di Civita Vecchia e varie situazioni che vengono fatte da fratelli, il circo almirante Fratelli d'Italia che nella sua sede per mercoledì, quindi domani alle ore 18, nella sede di Via Carducci nel rione San Giovanni, si parlerà appunto di tanti personaggi, uno tra tutti ci tengo a sottolinearlo è Raul Di Gennaro che è stato tra le tante cose anche un patriota di Civita Vecchia nella sua permanenza nelle Forze Armate e così via. Per quanto riguarda lo sport, diciamo Civita Vecchia ha preso il brudino, l'avevi inteso ieri dai commenti di P&D bene, ma questa è la settimana importante, oggi riprendono gli allenamenti, settimana importante perché c'è lo scontro diretto tra l'ultima e la penultima, cioè che adesso in questa fase sarebbe i play out perché l'ultima è diventata l'Almas, ma viene qui e quindi batterla significherebbe mettersi un po' di punti in tasca rispetto alla fine del campionato per evitare l'ultima posizione che è quella della retrocessione diretta dopo le decisioni del giudice sportivo che ha escluso un'altra società. Quindi questa è la situazione con attività delle notizie di oggi, appuntamento a domani come sempre da Trip TV.